Presenza costante di bivacchi di persone spesso ubriache o sorprese ad assumere sostanze stupefacenti, degrado, sporcizia e tanta paura. Emergenza sicurezza in Bianzani. Dopo l'ordinanza che impone a tre esercizi commerciali di abbassare le serrande alle 18 in punto per 40 giorni, i residenti della zona chiedono di non abbassare la guardia. Dopo l'ordinanza, qual è la situazione in Bianzani? Dopo l'ordinanza la situazione è nettamente migliorata. Soprattutto i cittadini stanno ringraziando perché non ci sono più questi assembramenti a tarda ora e riescono a entrare ed uscire liberamente dai portoni di ingresso di questo famoso condominio che soprattutto si affaccia sulla via Anzani e non hanno più bisogno per entrare e uscire, di dover usufruire dell'uscita sulla via Magenta. Queste le parole di una residente del quartiere che ha scelto di restare anonima e che ha raccontato le numerose battaglie dei cittadini per riappropriarsi della zona. Numerosi esposti che segnalavano veramente una situazione di degrado. Di degrado che non c'entra niente come hanno voluto far intendere con l'integrazione, l'accoglienza perché mi piace ricordare che come Borghi è sempre stato un quartiere vivo e accogliente. Non è una sensazione di paura perché quando passa, incomincia, ci vede risse, gente ubriaca e tutt'altro, non è solo una sensazione, una percezione, sembra di essere che la situazione sia fuori controllo. Cosa resta ancora da fare per aumentare la qualità della vita in Bianzani? Allora, in Bianzani è tutta, innanzitutto bisogna monitorare perché non so se possano bastare i 40 giorni e controllare soprattutto questa gente che passa le giornate in questi luoghi e che poi, cioè, dalla Bianzani praticamente si spostano e arrivano fino ai giardinetti e passano il resto delle giornate lì.